Il 2 e 3 giugno si rinnova la tradizione secolare dei tappeti di segatura. I gruppi di volontari delle associazioni camaioresi daranno vita alla più suggestiva delle arti effimere, a precedere e ad accompagnare la processione del Corpus Domini. Per tutta una notte, fino alle prime luci dell'alba della domenica, un'intera comunità sarà al lavoro per assicurare uno spettacolo unico. Confermata la novità reintrodotta nel 2017, ovvero il ritorno delle classifiche, con una giuria di esperti, segreta, che decreterà domenica mattina il tappeto vincitore. L'ultima edizione fu vinta ex equo dal gruppo dei Greenaway e delle scuole medie Pistelli. Novità di quest'anno è il busso a navetta gratuito, messo a disposizione dal Consorzio di Promozione Turistica, da Lido di Camaiore al centro. E poi due mini tappeti con logo della BVLG, realizzati ai due estremi del percorso. Il tema scelto quest'anno è la via francigena. Avremo il presidente Massimo Tedeschi dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, che ci farà la cortesia di partecipare, perché ogni tappeto rappresenterà due tappe della via francigena, che parte da Roma e va fino a Canterbury, e attraversa Camaiore, quindi abbiamo studiato proprio tutto il percorso. Il Comune non solo si impegna a mettere le risorse per garantire ovviamente il proseguimento di questa importantissima tradizione, il Comune si impegna con la collaborazione dell'Associazione e anche a parlare di promozione, di divulgazione e anche di trasmissione di questa importante tradizione. Tant'è che grazie all'Associazione Tappetari le nostre scuole partecipano attivamente non solo nell'evento, ma anche durante l'anno. In attesa che l'UNESCO si esprima sul valore dei tappeti, i gruppi camaioresi sono pronti alla ribalta internazionale. Finita la nostra manifestazione, il gruppo di Camaiore andrà a Exce della Sierra, in Spagna, per il Congresso Internazionale delle Arti da Strada, a cui parteciperanno 40 delegazioni di tutto il mondo, quindi per noi è un grande evento perché comunque ci dà una pubblicità a livello internazionale.